Andiamo a fare shopping Mi urta un po' il tasto cerchio per dare l'ok invece che la X Però sono i tasti alla giapponese, loro usano così Oh, guarda che bella, Shibuya Wow, Shibuya è più affollata che mai, guarda quanta gente Già, prima del covid Raggiungiamo la statua di Bucico alla svelta Meglio non lasciare Ryuji troppo a lungo da solo, visto la sua soglia d'attenzione Sempre cattivo come sempre E la stazione invece non posso entrare tipo in queste zone Hanno limitato molto alcune zone secondo me C'era il senso per stringere ovviamente gli spazi Ryuji? Ryuji dove sei? Eccoti, ciao Con questa bella maglia rossa Ehi, come va? Siamo pronti a comprare un po' di roba per il campeggio? Certo Sberghiamoci ad andare al negozio, così possiamo rinfrescarci un po' Fa già fin troppo caldo qua fuori Dobbiamo comprare noi il barbecue, giusto? Fai strada Ryuji Ehm, non so dove sia Oh, giusto, possiamo chiedere all'app Ehm, ehm, ehi Emma Ciao, hai bisogno di qualcosa? Sì, ehm, mostraci quel negozio di cui parlavi Mostra il percorso ottimale per la tua destinazione Wow, guarda che bella questa mappa Riesci a capire come aiutarci anche con una domanda così vaga come quella Questa cosa è molto più utile di quanto pensassi Ottimo, diamoci una mossa, così possiamo organizzare la scorpacciata di domani Certo Alice Alice, ti amo Chi? Cos'è tutto questo baccano? Ho un evento consigliato per te È in corso un'appertura promozionale davanti al 705 di Shibuya con Alice e i raghi Ok Che cavolo è un evento consigliato? Frena, sul serio, Alice è qui Alice? Alice e i raghi è una modella e artista giapponese Ha raggiunto la popolarità con il suo look adorabile, il suo stile è unico La sua attività copre diversi media e generi È una loli, insomma, un idol loli probabilmente È diventato un influencer della cultura pop e continua ad attrarre schiere di giovani fan devoti Wow, Emma la fa sembrare una star È davvero così popolare Perché la cosa mi puzza? Cioè nel senso Già che ne sta parlando così tanto, così bene Forse la cosa è strana Non so che impressione ti dà quella bolla Alice è proprio laggiù, non posso crederci Non è che me ne importi granché, eh Cosa? Non sei cambiato per niente? È di strada per il negozio, perché non andiamo a dare un'occhiata? Ne va decisamente la pena, credimi Ok, va bene, ti seguo Ryuji Comunque Ryuji con questo look un po' meno giovane Si vede che è cresciuto Ehi, che succede? Ho sentito che c'è l'apertura di un negozio Aspetta, quello non è Alice! Alice e raghi! Ciao gente, grazie di essere venuti Oggi c'è l'apertura di un negozio con uno dei miei brand personali Proprio qui È proprio Alice Avete mai sognato di diventare qualcun altro? Anche solo per un po'? Becconosco un posto dove questo sogno si realizza Un paese delle meraviglie dove potrete diventare chiunque vogliate Ora, ho una sola domanda C'è qualcuno che vuole visitare questo paese con me? Io, 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 prendi me Madonna, prendimi Madonna Oh, grazie Allora una sorpresa per voi Regalo 100 biglietti di invito come dono speciale Sono biglietti magici che vi permetteranno di divertirvi ancora di più nel paese delle meraviglie Godeteveli Eeeh, prendi, prendi Ma si è spostata così Ecco qui Oh, oddio mio, grazie E una anche a te Grazie, grazie, grazie Lo vendo su ebay Porca vacca, Alice mi ha appena sferrato la mano Oh, quegli occhiali sono davvero fighi Scusa, non voglio sembrare strano Spero ti piaccia il negozio Grazie Ecco a te Grazie, anche a te Alice mi ha dato un biglietto Lasciatevi guardare dal bianconiglio Guidare dal bianconiglio verso il paese delle meraviglie Divertitevi, gente Ciao Ciao, Alice Ciao Mi è toccato Ok Quindi questa è la vostra nuova idol Una volta i vostri idoli erano in Ladri Fantasma, stronzi Cavolo Ma che era tutta quella calca? Wow Non riesco a credere di aver visto Alice Proprio Era proprio carina come pensavo Si veste in modo fin troppo strano per me Coso Eh, ecco no Non capisci proprio È fantastica proprio perché è diversa Beh, è tutta tua Il mio cuore appartiene ancora e solo e soltanto per Lady Anne Si, si, abbiamo capito Beh, contento ora Diamoci una mossa e facciamo queste compere Va bene Va bene, va bene Non la vuoi la carne, Ryuji Oh, già Alice ti ha dato uno di quei biglietti E quegli inviti, giusto? Eh, eh, eh Sì, a lui lo ha dato E tu sei stato ignorato Piantala E c'era un mucchio di gente Tutto qui Allora C'è scritto solo Emma Il biglietto dice il paese delle meraviglie di Alice e i raghi Il paese delle meraviglie di Alice e i raghi A me sembra solo una pubblicità qualsiasi C'è qualcosa scritto in piccolo Questa è la mia parola chiave per Emma Facciamo amicizia Cos'è una parola chiave? Futaba non ha usato qualcosa del genere proprio ieri Ha detto che potevamo diventare amici tramite Emma Sì, fallo Andiamo, figlio Nyx Va bene Immagino che potrei aggiungere Alice come amica Kawaii desu Allora, inserisci la parola chiave e diventa amico di Alice Hai detto che è scritta sul biglietto, giusto? Com'era? Il paese delle meraviglie? Ecco a te, ti dico la parola chiave Parola chiave inserita correttamente Avvio navigazione Navigazione? Ma che cosa? Cosa sta succedendo? È una sensazione così familiare Questo era Ryuji ovviamente che parlava Oh 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 Alice è cattiva È cattivella Sì, sono proprio loro No Questa qui è proprio stronza Beh, però per fortuna finalmente inizia l'azione Aiuto Ah Mi ha trapassato Uh Ma queste saranno ombre? Beh, penso di sì Visto che nella prima puntata si sono trasformate E questo remix incredibile? Merda E va bene, diamoci dentro Vi sistemeremo tutti quanti State allerta voi due Siamo un po' fuori forma Vi conviene riscaldarvi un po' per cominciare Sarà come andare in bicicletta Vedrete Già Devo ricordarmi tutti i tasti Vai Arsene Colpisci Due, tre E quattro Uno, due E tre Quindi se faccio triangolo Ok, ora finalmente ho capito Se faccio solo triangolo Spara e consuma una munizione Pixie Ciao Da quanto tempo? Joker, usa la tua persona Devo usare cerchio Ah no, X Mentre tieni premuto R1 L'abilità delle persone Tieni premuto R1 E muovi per i mirai nemici Quindi usa l'abilità Ok Le abilità delle persone Hanno determinate affinità Alle quali i nemici potrebbero essere debili Usando gli attacchi basati sulle tale affinità Potrei causare danni maggiori E svuotare la barra KO Ok E insomma Cioè Mi bastava dire Se usi l'attacco Li uccidi con un colpo, no? Vediamo Una zona in cui ci sono più nemici Proprio dietro di noi Eia Distrutti Assalti Cerchio mentre i nemici sono atterrati Ok Dato che possono danneggiare più nemici in una volta Consigliabili utilizzare gli assalti su gruppi numerosi di nemici Quando la barra KO di un nemico è totalmente esaurita Questo verrà abbattuto Puoi svuotare la barra KO di un nemico Colpendolo le debolezze O con i colpi critici Ok Assalto Oh Devo essere sincero Per essere la mia prima volta Con questo Tipo di gioco Nel senso Come ho detto Non mi ricordo Come si chiamano I Momso Non mi ricordo Ti giuro Sto continuando a registrare E non Non mi ricordo come si chiama Questo genere di gioco Però Essendo la mia prima esperienza Non mi Non mi sto trovando male E sto remix mi da Una figata assurda Rinforzi Se continuano ad arrivare Saremo fritti Dovremmo sfruttare l'ambiente circostante Vedete qualcosa che possa tornarci utile Ok Quel pallo della luce Guizzo fantasma Cerchi durante il suggerimento a schermo Guizzo fantasma Prima di cerchi per muoverti rapidamente Dopo un guizzo fantasma Ti nasconderai automaticamente Triangolo mentre ti nascondi Azioni speciali In base alla situazione Premi triangolo Mentre ti nascondi Ti farà eseguire diverse azioni Come attacco o muoversi Mentre ti nascondi Cambia il bersaglio Se sei nascosto Ci sono più punti Verso cui effettuare il guizzo Puoi scegliere tra diversi punti Bersaglio con L Ok Ok Nascondiamoci E ruota Mi piace Allora per quanto a me Piaccia Già di base Persona 5 Mi piace come In questo titolo Le azioni vadano Iper veloci Cioè Va tutto sulla velocità Cioè nel senso Non è più Tutta una roba a turni Che per carità A me piace A me piacciono i giochi a turni A volte Non tutti Purtroppo Ma Qui Invece Posso nascondermi? No Ok Volevo fare Un'azione speciale Con il palo della luce Mentre qui invece È tutto in tempo reale Che per carità Ad alcuni può piacere Ad altri no Però a me In questo momento Piace un sacco Ma io posso fare Attacchi caricati Ci sono altri nemici Joker Scala Attenti A che cosa Arriva un nemico grosso No Arrivano altre ondate Ma che diavolo Ce ne sono altri Ci stanno circondando Dobbiamo ritirarci Quindi scappiamo Ma se io invece Li attaccassi Ragazzi Laggiù Sembra la migliore uscita Ma fate in automatico O posso Beh io Io continuerei A provare ad attaccarli Proviamo anche un attacco fisico Le abilità che consumano HP Attiva alcune abilità Consumano gli HP Persi In questo modo Si ripristano gradualmente Nel tempo Se non subirai altri danni Oh Questa è una meccanica Interessantissima invece Sembrerebbe Che non subiscano danni Mi sembra che non subiscano danni Mi sa che in questo momento Sono immortali i nemici Via ragazzi Scappiamo Avrei voluto ucciderli Per fare livelli Però io non so neanche Se ci sono i livelli No Allora le persone Forse ce li hanno i livelli Non so se noi abbiamo un livello Però visto che c'è la barra della vita Penso di sì Ok Che diavolo è questo posto? Il metaverso È palese Credo che possa essere il palazzo di Alice È un palazzo Credevo non ce ne fossero più Voglio dire Non abbiamo più neanche il metanav Sui nostri telefoni Non so che stia succedendo Ma credo che non ci sia altra spiegazione Avete visto anche voi Alice su quello schermo Comunque La si voglia guardare Quella era la sua ombra Siamo finiti per caso Nel palazzo di Alice Usando Emma Sarebbe la spiegazione più logica Non è che Emma È il metanav Sottomentite spoglie Maledizione Qualsiasi cosa sia Non cambia il fatto che siamo nella merda Fino al collo Ci servono più informazioni Esploriamo l'area Se questo è davvero un palazzo La distorsione dovrà pure avere Un nucleo da qualche parte Dobbiamo trovare il tesoro Riusciamo persino a sentire lontanamente l'odore Se cerchiamo in giro Magari riusciremo anche a scoprire cosa succede Avremo un'idea più chiara di cosa fare In base a cosa troveremo Già Lo facciamo allora Già Siamo tornati A pieno regime Come ladri fantasma Bellissime queste cutscene Perché non sono Cartone È comunque CGI Oh Ci hanno sgamato Oh no Ci hanno catturato Ma io non capisco Allora Tecnicamente Loro sono ombre Sì sono assolutamente Sono assolutamente ombre Perché sono al servizio Del signore del palazzo Solo che non si trasformano tutte Alcune rimangono così Fine Alice Alice È una persona psichica Si capisce già dagli occhi che hanno quei colori E quella forma È un'ombra psichica Chi sono questi piccoletti? Vostra maestra Abbiamo catturato questi ladri Ma non siamo riusciti a germire i loro desideri Così li abbiamo portati qui Non siete riusciti a germire i loro desideri? Esigo una spiegazione È una mistress questa Oh Sei un bel tipo Allora Come ti chiami? Aia cazzo Joker Ah e quindi tu saresti Joker eh? Avanti Joker Devi rispondere come si deve Quando la tua regina ti fa una domanda Pianta la stronza Ah vuoi chiudere quella bocca? Ah vuoi essere punito anche tu Brutta merda Provaci Che noia Non mi importa più Liberatevi di loro come vi pare Non voglio che dei giocatti a lui che non mi obbediscano Ciao ciao Vuoi salvare i tuoi progressi? Certo Rosario Ciao c'è Ciao ciao Alatorio